Il tuo tempo è limitato e il suo valore è inestimabile. La cosa più preziosa che puoi ricevere da una persona che è abili non sono dei regali, non sono le parole, ma il suo tempo, perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo. Ogni giorno hai 86.400 secondi a tua disposizione. E' l'orologio della vita, il tuo orologio, che ogni giorno ti dà una nuova opportunità per vivere la tua vita pienamente. La descarga mi llama, para mostar la descarga mi llama. La descarga mi llama, para mostar la descarga mi llama. Il tempo vola, ma tu sei il pilota Il tuo tempo è limitato, non passarlo a vivere la vita di qualcun altro Magdalena Amate